Grazie. Grazie. Queste luci sono cortissime. Sì, vuoi spostarti? Ce le ho un po' meno nelle mie ore. Bene, buonasera a tutti. Io mi chiamo Marta Sansoni, sono dirigente, mi occupo di beni comuni al Comune di Trento da qualche anno. E proprio in virtù di questo mio ruolo abbiamo cercato oggi di introdurre questo tema all'interno di una settimana che ha come riferimento soprattutto la Smart City. E quello che pensavamo noi è una Smart City che nell'immaginario è soprattutto una Smart City tecnologica, che parla spesso di innovazione tecnologica. E allora la domanda che ci siamo fatti è soprattutto questo. In una città come Trento, che ha scelto anche nel 2015 di introdurre il regolamento sulla cura dei beni comuni, e che quindi ha di fatto anche assunto come metodo di amministrazione, l'amministrazione condivisa, volta soprattutto al convengimento dei cittadini per la cura dei beni comuni, cosa vuol dire in questo contesto parlare di Smart City? È una domanda che ci coglie anche rispetto alle domande che in questo contesto circolano. Siamo Smart City davvero? Oppure lo siamo magari senza saperlo? Oppure abbiamo una visione di Smart City che a volte non ci appartiene? In questi due anni abbiamo colto una sensibilità particolare dei cittadini, la voglia anche di prendersi cura dei luoghi, dei luoghi in dove vivono. Si prendono cura delle piazze, delle strade, del verde, vedendo probabilmente in questa voglia anche la voglia di riprendersi in mano la città dal punto di vista proprio della partecipazione. Ecco, io credo che dalla partecipazione dobbiamo poi forse passare al concetto di collaborazione che è un'ottica un attimino diversa, vuol dire esserci nel fare, nel condividere, nel progettare, nel fare le scelte. E allora la domanda è proprio questa, Trento è una Smart City di quale tipo? Possiamo pensare da un grado di collaborazione buono, su aspetti anche innovativi, buoni, a una città che ha un grado di collaborazione alto e dell'innovazione tecnologica alta? E allora la domanda, mi sembra che il grado di innovazione possiamo già dire che è buona e alta, quanto lo è la collaborazione buona e alta? E soprattutto cosa possiamo fare per far sì che questo lo sia davvero? In questi due anni abbiamo coinvolto circa 2300 cittadini nei nostri progetti, abbiamo fatto progetti come nel nostro regolamento comunque che si occupa di beni comuni che chiamiamo semplici ma anche patti abbastanza complessi che hanno richiesto anche una particolare attenzione. E ne abbiamo portato a casa circa 180, ma credo che siamo al punto adesso secondo me che dobbiamo pensare o fare un salto, un salto di qualità. E in questo chiediamo appunto qui avvicino a me che è la professoressa Daniela Ciaffi che insegna all'università di Palermo, ma le chiedo soprattutto in quanto lei è parte del direttivo di LabSus nazionale, il laboratorio della sussidiarietà che ha contribuito a creare questa cultura, a promuovere questa cultura e anche supportare i comuni nella definizione di un quadro giuridico di riferimento. Ma è attiva anche in un territorio dove è anche responsabile o segue comunque LabSus Piemonte. Ecco, a lei chiediamo soprattutto come può essere una città smart, come si sente Trento, essere anche una città collaborativa? Allora, buonasera a tutti, io appunto mi chiamo Daniela Ciaffi, ho un po' questo doppio ruolo, cioè da un lato sono una persona che da 15 anni si occupa di processi partecipativi e poi sono d'accordo con Marta, da partecipativi sono diventati nella mia esperienza collaborativi. E dall'altro appunto sono in realtà una sociologa militante, cioè oltre all'attività accademica, quindi di ricerca, di insegnamento, mi piace molto così stare sulla strada, ecco stare sulla strada e cercare un po' di capire quali sono gli altri cittadini attivi nelle diverse zone d'Italia, perché essere attivi a Palermo, essere attivi a Trento sono due cose comunque così diverse, perché il contesto è diverso. Quindi volevo un attimo iniziare magari anche un po' presentandomi un po' di più dicendo che nel 2011 ho pubblicato un libro che si intitolava Urbanistica partecipata. Tra l'altro il tema delle nuove tecnologie cercava di essere trasversale, diciamo, a tutte le esperienze che facevamo vedere, però se volete il piglio era sempre quello di un'amministrazione più o meno virtuosa, illuminata, sperimentale, che tentava proprio di costruire dei processi partecipativi ai quali i cittadini erano invitati. Quindi si cercava in tutti i modi di coinvolgerli e così appunto io, se volete, insieme ad Alfredo Mela, che è un sociologo urbano, abbiamo cercato di proporre un metodo e in alcune amministrazioni appunto piemontesi e lombarde abbiamo cercato di metterlo in pratica. Quindi poi nel libro aprivamo delle finestre in cui ci pigliavamo anche un po' così, un po' in giro rispetto ai limiti, a tutte le speranze dei processi partecipativi, ma poi a volte è così anche un po' ai limiti degli stessi. Qualche anno dopo invece un mio collega di Londra mi ha detto, senti ma perché non allarghiamo un po' lo sguardo? Io rispetto allo allargo a partire dall'Inghilterra, tu lo allarghi a partire dall'Italia e cerchiamo un po' invece di capire un'altra cosa rispetto a quello che fino adesso hai cercato di capire tu in Italia, cioè come va il mondo occidentale, cioè che cosa sta succedendo nel mondo occidentale, soprattutto così anche in risposta alla crisi. e l'ipotesi di questo testo era molto diversa dall'ipotesi di urbanistica partecipata e consisteva nel fatto che prima arriva l'attivismo comunitario e a ruota segue il planning, cioè l'attività appunto di costruire le politiche, di istruire i processi, eccetera. Quindi se volete, così come mia nota biografica però penso che stiamo tutti dentro al nostro tempo e respiriamo anche quello che succede, da una visione in cui l'urbanistica partecipata era istruita dalla pubblica amministrazione alla invece visione in cui prima c'è il community action, anche virtuale secondo me, e poi a ruota segue il planning. Non so se sono stata chiara. Questo appunto, 2011 il primo libro, 2014 il secondo libro che appunto si intitola proprio così, Community Action and Planning. E in questo libro che appunto aveva capitoli che arrivavano dall'Australia, dalla California, dai posti più diversi diciamo, però sempre tutti del mondo occidentale, cosiddetto, in realtà il mio capitolo preferito era di due olandesi che dicevano, raccontavano che cosa era successo in un quartiere residenziale e poi dicevano il vero segreto del successo di questa cosa che vi raccontiamo era che i cittadini attivi nel quartiere e i funzionari pubblici erano equal. Diceva proprio questo aggettivo, me lo ricordo perfettamente. equal, voleva dire, si mettevano allo stesso livello. E io questa cosa del capitolo olandese, sinceramente, a volte uno cura i libri ma poi le cose le capisce dopo, l'ho capita molto meglio quando nella mia vita è appunto entrato il tormentone Lapsus e ho conosciuto invece dei giuristi di strada, che sono appunto Gregorio Reina, che sono Fabio Giglioni, che sono tutte le persone, gli amici ormai, perché proprio abbiamo un'attività intensissima da anni, che mi hanno spiegato questo equal, perché probabilmente anche in Europa, anche se ci lamentiamo spesso che questa Europa, che cos'è, non esiste, non è l'Europa dei cittadini. Però secondo me invece alcune idee forti, scusate, le mettiamo a fuoco diversamente, arrivandoci da vie diverse, però le stiamo spesso, no? Convergono. E quest'idea del mettersi alla pari è un'idea che appunto in tutto il mondo occidentale, secondo me sta circolando, e che all'italiana viene codificata in questo strumento del patto di collaborazione. Cioè il patto di collaborazione è appunto nelle città che adottano il regolamento, come la vostra, ma altre 150 in Italia, quindi mi sembra un numero decisamente interessante. In queste 150 realtà italiane, grandi, piccole, che hanno adottato il regolamento per l'amministrazione condivisa, succede che veramente un cittadino che prende l'iniziativa e l'amministratore, attenzione, anche con un ruolo tecnico, non solo politico, possono diventare contraenti alla pari nel patto di collaborazione. E questa cosa qui è l'equal che dicevano gli olandesi. E mi sembra molto, molto interessante. Se volete, alla fine in Italia ci siamo arrivati attraverso il diritto alla città codificato dai nostri esperti di diritto amministrativo. Perché i sociologi, gli urbanisti, che io ho sempre invece molto più frequentato, ogni volta che questo diritto veniva codificato attraverso leggi, regolamenti, storcevano un po' il naso. Cioè dicevano, e questa tra l'altro, poi vorrei ritornarci se tu anche ne hai voglia dopo, è un'idea che sta anche un po' di nuovo serpeggiando. Cioè nel momento in cui io però codifico l'attivismo civico e anche la voglia di collaborare dell'amministrazione in un patto di collaborazione, accidenti, smonto un po', no? Sapete quando si sbatte l'uovo e lo si monta, ah che bello, tutti hanno voglia di collaborare, nel momento in cui io lo codifico in un patto, stai a vedere che invece mi si smonta la voglia, no? E invece secondo me questo è proprio un ragionamento falso e tendenzioso, mi viene da dire, perché dobbiamo tutti quanti lavorare più nella direzione che se una cosa si fa, si fa per bene, no? Si fa in modo legale. Il patto di collaborazione, ho capito che magari è più faticoso rispetto a io chiudo un occhio, due occhi, ma so che lì il cittadino si occupa di qualcosa. E' più faticoso, sì, però se permettete la differenza è fra fare una cosa in modo non codificato e farla in modo invece legale. E qui insomma ho tentato un po' di scherzare su questo lungo titolo della mia presentazione, la cura dei beni comuni per lo sviluppo di smart communities. Allora, anche io, prima di capire appunto che tipo di comunità smart siamo, se permettete, no? Faccio un salto indietro, cerco di dire due parole sul concetto di comunità, su cui, vabbè, bisognerebbe fare delle tesi di dottorato tutte le volte, però, come sapete, insomma, il concetto di comunità nasce col concetto di comunità di sangue, no? Nell'ottocento, e poi da questo concetto evolve, non sto qui a fare tutta la storia sociologica, però uno dei modi con cui poi è stato più usato nel novecento è stato quello delle comunità di interessi. Allora uno, anche rispetto all'amministrazione condivisa, ai patti di collaborazione, potrebbe dire, i patti tentano di, appunto, far diventare contraenti e più generalmente di mettere insieme in Italia tutte quelle persone che hanno interesse ai beni comuni. Su beni comuni, di nuovo, si potrebbe stare qua molte ore, a partire dal premio Nobel per l'economia, Elinor Ostrom, le accezioni più ambientaliste, se volete, di beni comuni, la foresta amazzonica come bene comune, l'acqua come bene comune, il referendum storico del 2011 che così tanti italiani appassionò, però, diciamo, il tema è, ma queste comunità smart sui commons hanno interesse ai commons e la mia risposta, soprattutto un po' anche su consiglio di un collega che si chiama Giovanni Allegretti, un partecipativo, è stata quella di più interpretarle invece come no. Secondo me, più che una comunità in cui siamo tutti interessati ai beni comuni, siamo più una comunità di affinità. La comunità di affinità è una comunità che più che essere particolarmente interessata a un oggetto, anche perché poi siamo sinceri, se uno va a vedere l'interpretazione di che cosa sono i commons per gli italiani in questo momento, l'ABSUS fa i rapporti tutti gli anni, si può vedere, soprattutto nell'ultimo rapporto, si vede che molti patti sono fatti su temi di cura del verde, ho messo lì le altre parole chiave, no? È vero che questa relazione si intitola la cura, ma i patti sono su quattro azioni, azioni di cura, di rigenerazione, di riuso e di gestione. Quindi, le azioni sono diverse, non sono solo di cura, perché la cura è quando nulla cambia, io mi prendo cura di questa piazza del Duomo, ma sostanzialmente niente cambia in piazza del Duomo. Se io faccio un patto di rigenerazione, invece, la piazza del Duomo inizia a cambiare, è proprio quando trasformo l'esistente. Riuso vuol dire che, appunto, ne faccio un altro uso, soprattutto il tema del riuso, su tutti i beni sottutilizzati, non utilizzati, utilizzati in modo differente, e la gestione, grande tema, se volete, di nuovo, posso anche non trasformare niente, però, devo capire come si gestisce questo spazio, e anche come a volte si gestiscono temi immateriali, come gestisco la memoria di un luogo, per esempio. Però, devo dire, anche come architetto, molto spesso il fatto che non si sia pensato alla gestione di beni, di spazi e di luoghi, ha fatto sì che anche molti soldi siano stati investiti male. Abbiamo moltissimi progetti che se li andiamo a vedere X anni dopo, magari erano dei bei progetti architettonici, ma il non aver pensato all'aspetto della gestione ha fatto sì che così siano poi falliti. E, appunto, quindi vedete quante accezioni si possono dare al tema della cura. Potete vedere dai rapporti Lapsus che cosa gli italiani intendono per beni comuni, ma alla fin fine ne verrebbe fuori una tassonomia molto ampia, e quindi di conseguenza avremo delle comunità di interessi su interessi diversissimi. A Cortona c'è un patto di collaborazione per fare in modo collaborativo un piano paesaggistico. Allora, appunto, avremmo un arcobaleno di oggetti, in realtà. Invece la comunità di affinità la trovo più calzante, perché le persone che nelle varie situazioni noi incontriamo sono persone diversissime, cioè dal Lions che abbiamo incontrato l'altra sera. Ai preti, alcuni preti, parroci, gestori del patrimonio ecclesiastico che vorrebbero pensare insieme a noi ai beni ecclesiastici come beni comuni. Ai gruppi che invece vorrebbero fare patti di collaborazione anziché occupare alcuni dei cosiddetti centri sociali. Cioè, chi segue questo tema, secondo me, ha in mente, e questo vorrebbe essere proprio il cuore di questa relazione, anche se vogliamo poi dibatterne un po' dopo, stiamo proprio appunto di fronte a una comunità eterogenea, molto eterogenea, e questa è una cosa molto rara per come vedremo anche da una mia slide successiva che invece è fotografabile la nostra società. Cioè, la nostra società è una società in cui siamo tutti molto più clasterizzati, siamo tutti molto più raggruppati e meno comunicanti a seconda di quanto guadagniamo, a seconda di dove abitiamo, a seconda anche di, appunto, qua ci può aiutare la Smart City, di come possiamo essere fotografati, anche in base a come usiamo la nostra carta di credito e in base a come, per esempio, usiamo il nostro smartphone. Posso forse andare avanti con... Ecco, qui, scusatemi, faccio sempre un po' la studiosa che cerca di smontare un po' le cose. Per orientarsi in questo dibattito sulla Smart City, ho scritto anche un paio di capitoli, uno in italiano e uno invece in un libro in inglese insieme a Emanuele Assaporito anche, abbiamo tentato proprio di capire come si può smontare questo dibattito e molto molto banalmente però noi che siamo interessati al tema di quanto si condividono le politiche urbane e siamo in particolare interessati se volete alla parte superiore di questo schema cioè quello che succede sotto direi a costo di essere anche un po' così banale e qualunquista ci sono normalmente lo scenario più comune è quello in cui c'è sia un basso grado di tecnologia e sia anche così un bassissimo grado di condivisione e c'è anche questo quadrante in fondo in basso a destra che dice innovazione solo tecnologica e che se volete ritrae tutte quelle esperienze i quartieri verdi di Hamburgo o altri anche smart neighborhood in Cina piuttosto che a Singapore dove è verissimo che si fanno grandi ragionamenti tecnologici ma a livello di non dico di sharing ma anche solo di social non c'è nulla sono appartamenti magari tutti all'avanguardia per la domotica o altre questioni di tecnologia green ma poi alla fine costano dei prezzi che appunto nemmeno la classe media si può permettere quindi invece ci interessa se volete ragionare un po' di più della parte superiore e nel quadrante in alto a sinistra abbiamo di nuovo progetti che sono di sharing anche di coprogettazione molto interessanti e tutto ma che a livello di tecnologia non così noi diciamo gentilmente sono low no technology però alla fine non hanno quasi niente no e invece il quadrante in alto a destra che sono quelli come questo patto di collaborazione appunto sulla riduzione del digital divide che così ci fanno ben sperare che anche il patto possa essere centrato su temi di smart city a partire da appunto la banalissima riduzione del digital divide ma arrivo a questa slide cioè in fondo qual è il mondo sognato dagli urbanisti partecipativi dai sociologi e così direi un po' i sociologi in azione i sociologi che vorrebbero anche un po' incidere sulla realtà sulle popolazioni su come le politiche immaginano così anche un po' una città popolata posso dire che per quanto ci sia sempre divergenza di opinioni su molti aspetti in realtà ho trovato in questi almeno 15 anni di mia esperienza una forte convergenza sul tema della mixité un tema messo a fuoco sicuramente dagli studiosi francesi ma oltre che dagli studiosi francesi anche da chi ha fatto la politique de la ville in Francia e cioè cerchiamo di andare verso città miste cerchiamo di far sì che le popolazioni non siano omogenamente distribuite se volete il grande fantasma a questo proposito sono invece le gated community cioè quelle comunità chiuse la comunità in cui io entro c'è il guardiano all'ingresso privatizzo tutto un pezzo di città e lì solo se sono solo se ho un certo reddito entro ma anche se volete a guardare molte gated community degli Stati Uniti non so solo se sono omosessuale ci abito quindi al di là del reddito se volete immaginate pezzi interi di città che insomma di nuovo magari sono super smart perché così sono tutti green domotiche eccetera eccetera però dal punto di vista della popolazione secondo noi almeno non sono smart per niente perché appunto c'è questo tema della fortissima omogeneità della popolazione bene allora se uno dei problemi secondo me su cui tu chiedevi ma com'è come va Trento a che punto siamo di smartness io vorrei appunto in questa in questa così in questa occasione ringrazio anche per l'invito riflettere sulla smartness a partire da questo studio è uno studio che in realtà arriva dal Messico quindi io faccio tutte le premesse del caso attenzione perché parlare di Messico non è parlare d'Italia e seconda cosa i dati sulla base della quale è stato fatto questo studio sono i flussi di carte di credito e come secondo dato appunto l'uso del cellulare quindi le comunicazioni sms diciamo che partono dai cellulari allora questi studiosi hanno esaminato una popolazione di 992 mila messicani e hanno diviso la popolazione appunto in tre fasce li vedete immaginatevi gli omini rossi sono i ricchi i ricchi sono circa 20 mila di questi 992 mila i gialli invece sono i poveri 370 mila i ricchi vuol dire che spendono più di 3500 dollari al mese per individuo e invece i gialli ne spendono meno di 200 al mese per individuo viene confermata questa legge di Pareto per cui l'80% della ricchezza è detenuta dal 20% della popolazione più o meno nel senso 73 contro 27% e quindi abbiamo così queste nove se volete popolazioni gruppi gruppi di persone e la cosa come viene misurata l'interazione tra i gruppi che hanno questo reddito diverso da queste proboscidi le vedete che vanno da una da un settore all'altro ma che faremmo meglio a dire che spesso non vanno da un colore all'altro cioè questo è uno studio su quasi un milione di messicani che ci dice una cosa quantifica una cosa che appunto la sociologia ha sempre messo in evidenza con grande allarme cioè attenzione perché perché la società si sta stratificando ma stratificando tra strati che non interagiscono quindi se volete il tema rimane un po' quello lì che dicevo prima cioè delle innovazioni solo tecnologiche cioè se noi continuiamo a parlare di smartness ma in realtà alla base c'è il famoso algoritmo che fa sì che se io sono interessata ai commons voto in una certa direzione ho una certa età ho un certo reddito insomma gli algoritmi anche social fanno sì che mi vengano proposte amicizie in quella direzione lì e se volete questo non è uno studio sui social però alla fin fine ci sta dicendo guardate che siamo sempre un po' più tutti fra di noi che siamo simili fra di noi se c'è qualcuno che non è simile a me tutto farà sì che io forse neanche lo incontri allora questo questo è il tema secondo me cioè che le società siano sempre meno mistie e se volete che anche a livello di vita urbana a questa ruota della fortuna l'hanno chiamata alcuni giornalisti che a questa ruota della fortuna si abbini una mappa delle città pensiamo a Trento una mappa dei paesi anche perché poi a volte la ricchezza è distribuita molto così in modo lampante anche no se guardiamo una mappa d'Italia ne abbiamo viste tante anche per interpretare le ultime elezioni i risultati elettorali delle ultime elezioni ecco quindi immaginiamoci per esempio che di Trento si possa andare verso un futuro in cui questi nove colori sono sempre più aggregati in alcune sezioni di censimento in alcune aree della città oppure verso un futuro per me questo ovviamente sarebbe lo scenario ottimistico si capisce da come è impostata questa relazione in cui come dire la mappa di Trento sarebbe molto più arlecchinata molto più così molto più multicolore ma a scale piccole ecco e il patto di collaborazione se io dovessi dargli un senso il senso in questo momento è questo qua cioè il patto di collaborazione a me è piaciuto fin da subito fin dal 2014 i primi patti di Bologna perché ci vedevamo attivi gli abitanti borghesi di un certo quartiere per usare un termine così della vecchia sociologia insieme agli abitanti di strada di quella stessa parte di Bologna questi clochard che aprono fanno la guardiania di uno spazio pubblico di Bologna contraenti con gli abitanti contraenti con il dormitorio contraenti con il comune di Bologna oppure gli ultras contraenti di un patto io gli ultras in un processo partecipativo non li ho mai visti quindi il tema è questo il tema è di capire come il patto può lavorare su secondo me su questa stratificazione che però si sta calcificando e allora adesso che andiamo avanti con gli anni secondo me dobbiamo diventare sempre più esigenti rispetto alla qualità dei patti quindi va bene non ci occupiamo secondo me la parte sotto di questo schema resta sempre più o meno la stessa però invece la parte che parla di condivisione però avete capito oltre a chi di condivisione anche di contraenti il più eterogenei possibili invece la parte sopra è interessante e deve evolvere ci sono patti che rimangono low technology perché questo della spesa sospesa cortona che è uno dei patti che a me piace di più perché vede contraente la caritas una radio locale l'associazione dei commercianti di cortona e lo svecchiamento del pacco caritas per cui si sa che prendere il pacco caritas è una cosa stigmatizzante e invece a cortona si cerca non solo di lavorare sulla qualità del cibo perché chi prende il pacco caritas e va in giro per la città vede gli adesivi di alcuni esercizi commerciali può entrare può anche così venire omaggiato di cibi di qualità più buona di quella che si trova normalmente nel pacco caritas però se volete qua la dimensione tecnologica è quella della radio è una radio locale chi se ne frega che sia low technology è molto interessante che nella radio locale in realtà si parli dello stigma di prendere il pacco di quanto è buona la mortadella di un certo esercente che la offre anche a chi prende il pacco caritas eccetera eccetera quindi va benissimo la piattaforma radio è una cosa che non è la sfida tecnologica del momento però ci va bene perché è un alto grado di condivisione è anche di un tema difficile è anche il mettere insieme l'esercente commerciale con chi va a prendere il pacco caritas e quindi tornando indietro rispetto a quello schema almeno stai lavorando con popolazioni di due colori diversi poi ho citato invece senza fili senza confini che è questo progetto di Verrua Savoia vicino a Chivasso in Piemonte in provincia di Torino perché secondo me non è un patto di collaborazione ma è amministrazione condivisa tra l'altro intercomunale ed è il fatto che i professori del Politecnico con gli abitanti con gli amministratori locali alla fine si sono arrangiati rispetto al tema del wifi e allora mi fa piacere non so chi di voi ha visto forse una delle ultime ma l'ultima puntata di Report che aveva tutto questo grande così insomma questa fotografia molto deprimente no? di come il segnale arriva in diverse città d'Italia e allora quella sì invece la metterei fra le sfide tecnologiche la metterei fra accidenti se parliamo di smart siti ma anche di territori smart che cosa può fare il cittadino? Beh il cittadino se si allea con il Politecnico l'università del territorio e se si allea con i comuni perché se andate a vedere il sito internet c'è una pagina che a me che credo nel pubblico piace molto perché ci sono appunto tutti questi queste saranno una trentina una ventina 25 comuni che hanno aderito a questo progetto senza fili senza confini beh lì la sfida tecnologica sinceramente mi sembra invece per una volta alta ecco e poi lì ci ho messo un punto di domanda poi magari possiamo fare anche una cosa un po' possiamo un po' parlarne di questa futura Trento bene comune possiamo anche parlare secondo me molto così insomma cercare di ragionarci insieme come sta andando cosa così quanto alta vedete la sfida tecnologica ma anche quanto alta vedete la sfida in termini di eterogeneità della popolazione che state intercettando perché come dicevo poi dove si dire il cuore del tema secondo me è quello poi faccio un salto in Francia perché il lavoro che stiamo facendo come l'ABSUS interessa moltissimo sia la Spagna che la Francia e in particolare appunto qui riporto i cinque principi su cui hanno scritto gli amici della Cope de Comun cinque principi su cui secondo loro si devono basare le piattaforme digitali che loro raggruppano cioè devo dire tutto il successo di l'ABSUS e delle città con cui noi lavoriamo da anni è più basato sul patto di collaborazione inteso proprio come laboratorio reale cioè sono pochi i patti sul temi appunto delle nuove tecnologie sulle comunità virtuali per quanto fin dal primo regolamento di Bologna in realtà ci fosse esplicito riferimento alla rete civica o alle piattaforme appunto digitali comunali e ogni comune poi tenta ne parlavamo prima prima di entrare ogni comune e anche delle società private tentano di organizzare chiaramente il web così a supporto dei patti di collaborazione se volete la coppe de comune richiama un'altra rete italiana che va sotto il nome di collaboriamo animata da Marta Maineri però di questo esempio francese a me sembrava molto interessante questo loro manifesto in cinque punti cioè la stessa piattaforma deve avere una governance inclusiva deve condividere dei valori e qua ritorniamo a quella che dicevo prima la comunità di affinità deve avere un'etica dei dati deve produrre bene i comuni e deve appunto vedere la cooperazione tra i membri i francesi secondo me sono molto simpatici quando dichiarano di essere anche un po' ipocriti rispetto al tema dei beni comuni alcuni lo dicono lo rendono esplicito secondo me facendo progredire il dibattito cioè dicono appunto stiamo attenti perché all'inizio quando noi per esempio in Parigi siamo artisti non possiamo permetterci l'affitto di uno studio e chiediamo alle ferrovie dello Stato francese di darci una palazzina andiamo lì dentro è vero che facciamo cose per il quartiere che organizziamo atelier che organizziamo dibattiti eccetera ma prima di tutto intanto noi abbiamo degli studio degli atelier che non paghiamo quindi facciamo i conti con questa cosa e noi i conti li stiamo facendo molto seriamente secondo me mi piace che ci sia qua Marta con avendo fondato con l'università di Trento l'Apsus ed Eurix questa scuola che si chiama la scuola italiana dei beni comuni che Marta conosce e perché il tema c'è se vi ricordate all'inizio un po' adesso non so se con questa pennetta io so tornare alla prima slide no infatti perché va solo avanti non va indietro ma vabbè non è grave comunque nel titolo il termine sviluppo l'avevo messo come con una saetta che aveva il segno del dollaro sopra perché appunto il tema dello sviluppo eccolo lì vedete che la nuvoletta dei beni comuni era fulminata dalla saetta con un euro perché perché qua c'è un dilemma su cui ragioneremo anche domani a Baselga di Pinè insieme a Flaviano Zandonai il dilemma è che se io dico che i patti di collaborazione si possono fare solo nel nome dell'interesse generale il dilemma è che nel momento in cui io dico perfetto mi fa molto piacere che ci siano migliaia di patti in giro per l'Italia ma che contributo stiamo dando per esempio al tema della disoccupazione in Italia attraverso i patti al momento la risposta sinceramente è quasi nullo no? almeno in modo diretto io non lo posso quantificare perché io se ritorno all'articolo 118 della nostra Costituzione da cui tutto è nato è vero che lo Stato ai diversi livelli deve favorire la libera iniziativa l'autonoma iniziativa di cittadini singoli associati ma sempre in nome dell'interesse generale quello lì il grande paletto cioè non posso chiedere di essere favorita in nome dell'interesse particolare esempio mio commerciante eh abbiamo dei patti in cui ci dicono eh ma lì un chioschetto animerebbe la piazza su cui poi appunto insiste il patto di collaborazione sì è vero l'animerebbe però ragazzo qui il paletto è l'interesse generale non l'interesse particolare quindi il tema di nuovo la parola sviluppo che c'era nel titolo è una forse di tutte quante è la parola più difficile dal mio punto di vista perché appunto non si è ancora d'accordo ma neanche come comunità scientifica su appunto fino a dove arriva l'interesse generale e poi da dove invece parte l'interesse particolare quindi e questo è un tema secondo me non solo di chioschetto del barista ma anche che vuole contribuire che vuole diventare contraente del patto ma per esempio anche di piattaforme tecnologiche cioè io monto appunto una mia società invento adesso qua mi fa piacere anche citarvi voi di OP2 avete così lanciato questa sfida che per voi è una sfida legittimamente commerciale e però fino a dove arriva l'interesse generale che tutti quanti si conoscano di più siano più in rete come dicevo prima anche un po' una rete che prende dentro i gialli i blu i rossi che prende dentro appunto cittadini molto diversi fra loro e però quando inizia poi l'interesse generale del comune appunto che i comuni sono lì sono chiamati a presidiare ma anche le scuole sono chiamate a presidiare le case del quartiere cioè ci sono un po' i luoghi del pubblico e ci sono secondo me degli input che arrivano anche dal mondo privato ed è appunto un po' sfida nostra epocale tentare di capire come farli convergere in modo legittimo in modo non confuso e in modo che appunto qua suonano le campane siamo appunto tutti convinti io mi fermerei sì volevo chiedere una cosa stai parlando di un di un concetto di cura del bene comune in termini molto alti nel senso che credo che possa essere un traguardo frutto di un risultato di un processo di costruzione di patti che al momento vertono più su cose come dicevamo prima legate più alla cura forse anche qualcuno alla gestione quando si arriva sicuramente a confrontarci su patti che portano in sé la rigenerazione di spazi la gestione entra in questo ragionamento sicuramente un concetto anche economico di sostenibilità di questi patti che molto spesso oggi anche con il quadro normativo di riferimento che abbiamo non sono così facilmente gestibili in termini dell'attuale quadro normativo quindi bisognerà pensare come trovare le modalità per cui queste azioni ancora che fatte dai cittadini delle associazioni in un'ottica di collaborazione e anche di rigenerazione di spazi non utilizzati possono però avere in sé anche gli elementi economici per renderli sostenibili credo che su questo dovremmo lavorare soprattutto sulle forme di gestione che poi questi batti si possono dare rispetto però più in generale tornando sui temi del patto di collaborazione ed era un'altra domanda che era inserita un po' anche nel titolo no? Noi oggi siamo anche nella nostra attività quotidiana fra due livelli nei rapporti con i cittadini il cittadino che ci chiede subito di avere delle risposte in termini di possibilità concreta di collaborazione e che quindi si traduce molto spesso in una domanda in un'azione ma non in una costruzione di un processo poi di condivisione e collaborazione reale e quindi noi spesso facciamo fatica a far passare il messaggio che invece è la costruzione di un patto che ha in sé elementi anche di coprogettazione e quindi di apertura al territorio di inserimento di collaborazioni diverse è un po' diciamo più più importante quasi a volte del risultato stesso e in questo contesto è il tema delle relazioni che volevo no? poi porte quanto sono importanti le relazioni le relazioni all'interno della costruzione di un percorso che possa poi portare un patto di collaborazione per qualsiasi insomma delle tematiche che stiamo esaminando ma sì ti rispondo secondo me sia sulla prima che sulla seconda domanda raccontandoti di questo ragionamento che abbiamo fatto l'altro giorno con dei funzionari del comune di Torino però appunto per chi non è di Torino dico solo due parole su appunto come Torino si è guadagnata 4 milioni di euro con la proposta dell'amministrazione condivisa su un bando che si intitola Urban Innovative Actions dell'Unione Europea quindi era una misura di contrasto alla povertà e Torino porta l'idea del regolamento dell'amministrazione condivisa e riceve appunto 4 milioni di euro per lavorarci sopra quindi dei quali appunto 2 milioni di euro per l'hardware quindi proprio per opere di riqualificazione fisica di edifici spazi pubblici e invece 2 milioni di euro quindi una bella somma anche per il software quindi per l'accompagnamento del processo e quindi dopo un po' di mesi di lavoro appunto loro ci raccontano di essere molto stupiti favorevolmente stupiti dal numero di proposte ma così questo noi di Labsus potevamo come dire immaginarlo conoscendo gli italiani numero di proposte di patti di collaborazione che arrivano dentro al comune di Torino che cos'è cioè perché molte di queste proposte alla fine purtroppo così vengono respinte per i motivi che diceva Marta perché c'è effettivamente una cultura burocratica tale per cui esempio mettere far passare l'idea che in una scuola delle vallette che è un quartiere periferico di Torino si possa aprire un cinema come suggerito da un gruppo di abitanti attivi fa sì che per le norme antincendio della sicurezza eccetera eccetera si debbano applicare le stesse severissime norme che per un cinema a scala cittadina o di area metropolitana non so se era questo cui pensavi però l'idea è stata quella di capire di lavorare in futuro insieme a Torino ma ti faccio questa proposta così in realtà ma anche con Trento anche con altre città che stanno usando lo strumento per dire allora è possibile che ogni tanto il patto di collaborazione diventi una lasciatemela chiamare così una zona franca di sperimentazione cioè è possibile che quando tu grazie al patto di collaborazione sveli che ci sono delle energie civiche però non solo civiche a volte le trovi anche dal mondo privato a volte perché abbiamo dei patti per esempio che hanno fatto sì che delle imprese idili no abbiano detto io voglio diventare contraente allora le altre hanno detto perché lei si e noi no allora l'amministrazione comunale ha detto chiunque voglia diventare contraente è benvenuto cioè il tema vero è che secondo me si sta aprendo una fase in cui le amministrazioni comunali che sono sempre state chiamate a gestire la concorrenza e quindi ad aprire tutti i bandi che poi vengono vinti da chi va al minimo ribasso eccetera eccetera invece stanno iniziando per parte loro ad aprire ma anche a vedersi di fronte una cittadinanza a cui loro stesse per prime a volte propongono di collaborare anziché competere oppure che si propongono come alleati anziché come competitors quindi questo qua mi sembra il vero tema quindi io lo so benissimo che la prima volta che ho raccontato di un patto in Sicilia in cui un'impresa edile si era candidata era diventata contraente e aveva rimesso a posto un teatro nella città di Acireale il funzionario di Torino mi ha detto ma no gli veniva la pelle d'oca perché no ci sono tutte le regole della corretta competizione della trasparenza eccetera infatti io ritengo che questo l'ho detto anche l'altro giorno a Bagheria mi hanno detto però voi di Labsus ci aiutate se parte il regolamento a far sì che i patti siano tutti come dire corretti e l'ho detto sì ma noi di Labsus sicuramente se mettiamo i patti che voi avete fatto qui a Trento i patti che farà dopo domani una cittadina e la municipalità di Bagheria vengono messi online sul nostro sito tutta Italia ci sta attenta cioè non soltanto noi tu adesso dicevi 2300 cittadini è un dato che sinceramente mi ha colpito perché quando noi facciamo le nostre stime nazionali a spanne diciamo saranno 10.000 i cittadini altro che 10.000 se tu mi dici che solo a Trento ne avete già intercettati 2300 a Torino chissà quanti altri sono insomma diventano delle cifre che sono proprio state molto sottostimate quindi io ho molta fiducia so benissimo che appena uno parla di zone franche dici no perché siamo in Italia se tu inizi a fare una zona franca su una certa area è finita però guardate che quando il ministero dei lavori pubblici scusate non dei lavori pubblici del commercio dell'economia insomma aveva lanciato quest'idea di zona franca in alcune periferie italiane alcune periferie italiane ovviamente Librino a Catania avevano finalmente visto le loro prime attività commerciali nascere quindi io mi chiedo se si facesse una politica di zona franca quando veramente c'è una comunità che si aggrega come dicevi tu tutto questo valore aggiunto relazionale attorno ai beni comuni accidenti mi sembra che avrebbe dignità per essere molto favorita ecco per veramente uscire da quelle restrizioni che ogni tanto sono anche troppo mi dicevano a Torino l'antincendio non è possibile che si tratti la ThyssenKrupp come appunto il cinemino della scuola è veramente abbiamo bisogno loro mi dicevano come funzionari noi sentiamo che abbiamo bisogno di eccezioni e devo dire che loro come funzionari ma io invece come studiosa della città penso che molto spesso ci sono dei patti talmente unici che benvenga se riescono a nascere e a prosperare anche senza nessuna bisogno di chiedere eccezioni ma se è necessario come dire favorirli penso che questo vada fatto cioè come comunità scientifica come comunità politica insomma tutti quanti dovremmo andare in quella direzione qui poi non so se sia un tema anche per Trento però in tante altre città a Napoli per prima ma in tante altre realtà a Roma il tema poi sempre così di confine tra legalità illegalità normative eccetera è quello del riuso no cioè perché e guardate questo è un tema che peraltro divide anche molte comunità attive di quelle che nascono no rispetto per esempio ad alcuni cinema ad alcuni teatri questi cinema e teatri normalmente sono sempre i primi a venire quando sono così lì che non fanno più niente a venire occupati e di nuovo il tema dell'occupazione è un tema su cui secondo me ci dobbiamo confrontare tutti quanti un cittadino che si prende cura di un ex cinema che inizia a farci attività culturali in un quartiere dove non succede niente veramente lo vogliamo considerare un fuorilegge perché questa mi sembra anche la domanda però dico sono molto felice di far parte di Labzus perché è una comunità in cui dei giuristi di strada cercano proprio più che di prendere posizione politica sì bisogna no non bisogna no il tema non è quello il tema è appunto di codificare i passaggi le procedure perché poi quello che ci interessa è il dialogo con i soggetti che stanno che hanno responsabilità politiche e tecniche dentro le amministrazioni da un lato e poi invece i soggetti appunto il famoso community activism quindi le comunità attive nei quartieri non lo so se ti ho risposto io direi ecco se qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa ci farebbe più che piacere c'è anche la professoressa Forno con noi grazie visto che mi ha chiamato in causa io sono Lisa Morassi della KiwiBit che ha sviluppato la piattaforma Opidu che sarà presentata qui domenica prossima e volevo ti volevo chiedere visto che hai punzecchiato il tema dei interessi generali interessi particolari come si può inserire in questo circolo virtuoso secondo te un'impresa nella sussidiarietà cioè si parla di cittadini e di enti e di interesse generale l'impresa a volte è vista un po' come il lupo cattivo consentitemi quella che ci vuole lucrare sopra io vi dico invece la mia visione da imprenditore che ha voluto investire su questi temi imprenditore che ha voluto investire su questi temi perché crede che le competenze che può mettere in gioco una società possano andare su a vantaggio di tutti a vantaggio per esempio degli enti perché una società che magari sviluppa una piattaforma centralizzata e la mantiene perché la questione non è solo lo sviluppo è dopo la gestione mandarla avanti tenerla aggiornata e magari suddivide poi il costo fra N comuni perché dove c'è il vantaggio lente c'è il vantaggio di non dover ogni comune sviluppare la propria investendo decine centinaia di migliaia di euro e poi mantenere la propria ma avere una struttura centralizzata che poi si preoccupa di affiancarti di mandarla avanti e di suddividere il costo fra tanti enti penso che una società che vuole fare questo ovviamente dice ma vuoi crescere te come impresa certo perché un'impresa sana è un'impresa che vuole crescere in maniera sana cioè non vendendo i dati di sottobanco giusto per toccare un tema attuale scusate ma certo che una società sana che cresce che crea posti di lavoro c'è un suo valore cioè anche il chioschettino che apre nella piazza e che magari scusate assume tre persone cioè c'è un suo valore sociale è interesse generale anche questo perché io dico io nel nostro campo della tecnologia scusate no no nel nostro campo della tecnologia per esempio a me dispiace quando faccio i colloqui di lavoro a giovani neolaureati ingegneri informatici così dove ti vedi fra dieci anni in Germania negli Stati Uniti a me piacerebbe far passare il concetto che certe cose che un social come facebook come op2 perché ha il suo lato social non è una cosa che si può fare solo nella Silicon Valley ma siamo capaci benissimo anche qui e creare posti di lavoro attrattivi per i nostri giovani non formarli a spese italiane poi che vadano all'estero quindi cioè l'impresa secondo me deve essere inclusa in questo tema della sussidiarietà in qualche maniera seguendo principi e regole ecco vogliamo raccogliere un po' di domande era questa mi piace prendi 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 nel senso perché mi collegavo un altro fattore legato a questa anche alla dignità e al ruolo poi di tutti coloro che partecipano a un discorso legato poi a quello che è il perseguimento del bene comune nell'ambito delle politiche per i beni comuni è anche quello un po' degli esperti nel senso che anche quella degli esperti è una tecnologia di competenza dove ci sono degli amministratori che sono diventano esperti degli advisor che comunque hanno un ruolo di portatori di competenze dei politici che comunque perseguono attraverso il loro legittimo interesse né più nemmeno di come fa l'impresa un discorso legato allo sviluppo della collettività quindi secondo me questo discorso che nel momento in cui parliamo di impresa è più percepibile perché comunque l'impresa non partecipa appunto se non c'è un ritorno perché non sa come pagare gli stipendi e quindi non può farlo privando poi condannando poi magari il progetto a una riuscita minore e a un impatto tutto sommato meno incisivo perché poi se il mio problema è ridurre la disuguaglianza sociale migliorare le condizioni di vita in un quartiere magari mi fa più piacere se il livello del progetto ha un impatto e una portata più grande anche questo nel senso di creare poi in questo ambiente una convergenza di energie sane quindi è vero che noi dobbiamo uscire da certi tipi di dogmatismi delle amministrazioni che sono autoreferenziali che paragonano ecco gli adempimenti normativi del cinema dei genitori della scuola a quello del grande multiplex però è anche vero che anche noi dobbiamo secondo me in questa fase uscire da un dogmatismo dei beni comuni che ci dice che si possono fare solo in alcuni modi anche perché in questo altrimenti quello che resta tu dicevi quando hai fatto vedere il grafico delle classi sociali che si incontrano solo fra simili e io volevo in realtà citare una frase che viene dall'inchiesta di Mafia Capitale quando Carminati dicevano siamo il mondo di mezzo per mettere insieme il mondo di sopra e il mondo di sotto servono quelli come noi quindi per non lasciare poi questo tipo di contaminazioni che si facciano da sé in certi modi devianti bisogna creare una convergenza tra tutti coloro che hanno un legittimo interesse quindi questa era la mia se non ci sono altre domande per il momento io inizierei a rispondere alle vostre sollecitazioni che sono appunto mi sembra assolutamente tutte e due in linea dicendo che appunto forse prima sono andata un po' veloce però il tema è che la SIBEC appunto è stata fondata proprio perché noi di Labsus abbiamo questa competenza sull'amministrazione condivisa ed Eurix per chi non la conoscesse è proprio faro in Europa su tutto il mondo delle cooperative Eurix rispetto a questa domanda francese stiamo facendo un uso corporativistico cioè accezione così proprio negativa che dicevo prima un po' come privatistico dei beni comuni appunto dovrebbe essere l'esperto dico non solo nazionale ma anche europeo quindi se mi fate scusate se la tengo sempre troppo alta però citiamo così Adriano Olivetti l'idea un po' sua di impresa sociale e portiamola però adesso non a un imprenditore che fa macchine da scrivere quindi cambia l'oggetto ma che in fondo redistribuiva sulla comunità tra i primi al mondo ha invece appunto figure imprenditoriali che secondo me appunto non fanno macchine da scrivere magari si occupano di oggetti che sono vicini ai commons però poi secondo me resta il tema di come si redistribuisce alla comunità non so se mi spiego cioè vorrei un po' dividere tra che cosa fa l'imprenditore ma anche come crea un portafoglio comunitario no? ci sono questi due temi secondo me cioè c'è l'oggetto e io sull'oggetto a costo di restare un po' rigida però secondo me finché non si è convinti è anche meglio tenersi le proprie rigidità cioè ho preparato degli schemini per l'incontro di domani no? che poi appunto chi è libero vuole venire molto volentieri no? però il tema del beni comuni per adesso è un cerchio no? cioè io individuo un certo bene comune materiale o immateriale ed è quello perché ho una comunità che se ne prende cura ok? il tema dell'imprenditoria è un puntino rosso per adesso io non sono convinta che questo puntino rosso entri dentro al cerchio perché non riesco a essere sicura che non mi porti interessi particolari particolaristici volendo darmi un'accezione negativa ma già particolari come dicevo prima è come dire è dissonante rispetto all'interesse generale no? proclamato nell'articolo 118 quindi sono molto convinta che questi puntini rossi si possano anche mettere a corona di questo cerchio cosa intendo dire che se per esempio è in un patto che è stato stipulato a Condove vicino a Torino dei giovani si sono presi cura dei sentieri montani ok? li hanno tutti rimessi a posto hanno lanciato un festival di corsa in montagna e di mountain bike magari se avessimo tempo possiamo guardarci anche il loro video che ha fatto sì che come dicevi tu prima tutti i negozi di Condove gli alberghi eccetera hanno avuto in dubbio ricadute positive giusto? però nessuna impresa si è messa no? come contraente del patto per rimettere a posto quei sentieri nessun commerciante cioè come dire i temi possono andare insieme e io spero che in futuro come dire si diventeranno veri alleati ma per il momento a costo di restare rigido e penso anche per loro che hanno le responsabilità no? di trasparenza di processo eccetera sia un tema importante anche dal punto di vista politico no? perché è molto facile poi che come dire se alcuni commercianti io li metto dentro contraenti di un patto alcune imprese di lì beh politicamente non è bellissimo no? non siamo ancora attrezzati per dire perché loro si e altri no giusto? cioè siamo attrezzati nel momento in cui alcuni che io ho sentito in Italia mi dicono guarda io sapevo che tanto nessun altro si sarebbe candidato però come dire resta un tema di cui io non resto non sono ancora convinta cioè secondo me né la teoria né la pratica hanno ancora mostrato delle evidenze così forti da dire io il puntino rosso lo metto dentro al cerchio e sono sereno ok? quindi per il momento secondo me siamo nella fase in cui ma sono curiosa molto di sentire Flaviano Zandonai domani io mi immagino che sti pallini stiano un po' a corona del cerchio quindi che il tema dei beni comuni dell'aggregazione di una comunità è importante però fino a quando la ridistribuzione la creazione di un portafoglietto comunitario per esempio non è bene a fuoco io sarei cauta no? non so se mi sono spiegata è Baselga di Pinè sì altri io ho partecipato a un corso molto interessante appunto organizzato dall'assessorato beni comuni qua sul ripristino delle aree abbandonate intorno a Trento per fare degli orti comuni però come diceva lei poi diventa un problema in realtà farlo perché l'abbiamo fatta tutta molto teorica abbiamo fatto dei bellissimi schemi sono venute delle persone molto interessanti a parlarci dagli psicologi all'economisti poi quando si parla di mettere in pratica vabbè prendiamo la zappetta e prendiamo ho visto che l'unica cosa l'unico gruppo che l'ha fatto ma non faceva parte del nostro corso sono i lions che hanno messo delle piante ecco appunto che hanno messo ma non abbiamo fatto niente non hanno messo delle piante di meglio ecco comunque gli orti non sono stati poi messi in pratica cioè è stato fatto questo corso molto teorico e basta per cui il discorso del fare queste piste ciclabili come bisognerebbe riuscire a vogliare la gente che prenda una zappa o no questo io dico perché finché facciamo bellissimo il corso però poi è bloccato lì ci sono tante cose molto interessanti a Trento però poi si blocca perché anche qua vedo che ci sono delle persone molto interessanti ma riuscire a far venire poi i trentini ad ascoltare no? ecco vabbè stavo dicendo questo è un altro discorso ma invece mi interessava molto il discorso del fatto della pista che poi appunto hanno fatto questo festival però i soldi dove li hanno trovati perché se sono stati comuni che hanno dato dei soldi per fare questo lavoro li ha messi come cittadini secondo me il comune allora le imprese se lei come impresa vuole mettere dei soldi per fare questo lavoro penso che sia una cosa c'è da volte che le imprese non mi stupirei che fosse anche il caso di Condove a volte danno del materiale ecco Lerwa Merlin per esempio è un attore privato privatissimo che molto spesso dice io vorrei contribuire dando dell'invenduto del materiale che posso dare quindi quando ci sono molti esempi di imprese che anche a Condove non mi stupirei che come dicevamo prima anche nei molti patti bolognesi qualche migliaio di euro ma è quella appunto è anche un po' il principio di sussidiarietà nel senso che come dire tu ci metti la mano d'opera e tutto se io ti devo comprare tre latte di vernice e altre te le compro cioè nel senso è proprio per quello cioè che anche il pubblico contribuisca in Francia la chiamano la democratie contributive cioè la democrazia contributiva dopo la partecipativa la deliberativa perché comunque sì vogliono contribuire i cittadini però anche gli amministratori pubblici contribuiscono a quell'attivismo comunitario quindi questi puntini rossi sono i marchi cioè non mettete il vostro nome date una mano date dei contributi in materiale ma non mettete non scrivete e dite questi sono i puntini rossi sì intanto i meccanismi che si attuano nel patto non sono i meccanismi della sponsorizzazione ecco questo è il problema questo no non è l'esempio del Valle al Colossio non lo sponsorizzate ma date come volontariato no 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 il tema però secondo me è proprio quello di come in futuro costruire del profitto per gli imprenditori che ma che restano fuori dal cerchio no? secondo me per il momento restano fuori nel momento in cui invece succede qualcosa dentro al patto delle microeconomie delle monete alternative tutto quanto quello che possiamo immaginarci che si ripaghi il lavoro delle persone impegnate nel patto ma che tutto il profitto io torno ad Adriano Olivetti ok lui faceva macchine da scrivere noi rimettiamo a posto i beni comuni ce ne occupiamo li facciamo girare meglio eccetera tutto quel surplus secondo me deve diventare appunto portafoglio comunitario no? cioè il resto di questa idea qui cioè io ho sentito anche un professore universitario di un'università di penso forse il Politecnico di Torino che parlava di una bellissima ciclabile da Torino fino a Venezia e questa a vento penso sì c'è anche il Politecnico di Milano che ci sta molto lavorando ecco l'ho visto su Facebook questo certo ci fosse una vista ciclabile appunto diceva che appunto i negozi poi si riaprono i negozi chiusi nei paesini finalmente c'è la vita e anche probabilmente meno persone che poi rispetto alla vicenda dell'orto che lei diceva prima non ne so niente però un tema è quanta massa critica di cittadinanza attiva si riesce ad aggregare rispetto alle idee di patto di collaborazione perché obiettivamente ci deve essere un minimo di massa critica secondo me allora noi abbiamo alcuni orti comunitari che vengono utilizzati per esempio quello sotto il Fersin l'altro giorno guardavo hanno messo dei tulipani hanno messo delle cose molto interessanti c'erano dei studenti universitari che invece di avevano un'ora libera invece di mettersi a studiare e si sono messi lì a chiacchierare hanno piantato questi tulipani ed era una cosa molto bella poi ci sono appunto queste altre zone che sarebbero anche da utilizzare quindi però bisognerebbe un attimo convogliare la gente perché quando fai il corso poi bisognerebbe dire sì va bene facciamo il corso e poi facciamo una parte sperimentale è mancata in ogni caso se sono sul nostro territorio comunque delle realtà di orto comunitario che stanno raccogliendo la disponibilità anche a partecipare per cui se ha bisogno anche di questa informazione noi la diamo con ne abbiamo a disposizione poi non so c'è l'assessore che voleva dire qualcosa rispetto a questo ma in ogni caso solo un inciso noi stiamo individuando alcune aree per poterle dedicare a orte comunitario e anche qui entro il gioco come noi possiamo rendere trasparente l'assegnazione di queste aree e con quali modalità ecco su questo stiamo cercando di lavorare per vedere come possiamo comunicare ai cittadini che c'è questa volontà e sulla base del quale progetto poi possiamo costruire un patto di collaborazione per gestire questi orti comunitari appena abbiamo le condizioni per poterle fare ci muoviamo ma sul nostro territorio ci sono già alcune esperienze che re sì sì ma alcuni di quelli che hanno partecipato stanno già partecipando a alcune esperienze di orto comunitario no un minuto solo intanto per ringraziare che siamo quasi in chiusura grazie di essere venuta davvero e poi per rispondere alla signora rispetto al tema più che altro il tema degli orti quello che lei sollecitava dicendo fate belle cose però poi queste cose non partono allora il tema dei beni comuni per come l'ho capito io e per come stiamo cercando di portarlo avanti è proprio esattamente questo che sta cercando di fare veniamo da un periodo storico in cui i servizi erano talmente tanti e talmente ben fatti dove ci si trovava tutto già fatto che la gente ha un po' smesso di farsi delle domande e anche di chiedersi come può fare lei a partecipare e a dire delle cose allora il tema è come rovesciare fare in modo che i cittadini attivi diventino attivi cioè si muovono loro perché hanno un pensiero proprio o come diceva la dottoressa Ciaffi adesso un interesse che diventa collettivo non è un processo che si fa in due giorni naturalmente quindi quello che stiamo cercando di fare insieme alla dottoressa Sansoni è quello di fare cultura mettendo come dire dei temi che percepiamo interessanti per la gente questo degli orti è certamente interessante perché l'abbiamo trovato da più parti poi però all'orto non possiamo farlo né io né la dottoressa Sansoni e questo è il salto che va fatto esattamente però un conto è partecipare al corso e poi alla fine muoversi e dire vabbè adesso che si fa tu che fai tu che fai tu cosa ci metteresti un conto è partecipare al corso e poi aspettare ancora che qualcun altro organizzi il passo successivo ecco il tema dei beni comuni è proprio quello invece di fermarsi lì e di aspettare che ci siano i cittadini che in qualche modo questo passo lo vogliono fare si riappropriano di uno spazio che dovrebbe essere del cittadino e che forse nel tempo si è perso la zona magari difficile perché se mi dite che volete piazza Duomo ovvio che vi dico di no però però ci possiamo mettere un po' di non dobbiamo andare a 24 orti da lavorare in modo di lavoro per cui queste persone che hanno lavorato in 24 orti potrebbero certo però si tratta appunto di fare il passetto stiamo lavorando ci speriamo sì se volete solo fare una battuta perché una collega molto brava di Cinisello Balsamo appunto Siria Trezzi diceva Cinisello Balsamo è una città che noi tutti partecipativi siamo andati a studiare perché ha fatto cose meravigliose in tutti gli anni 90 e 2000 però lei un po' come lei adesso ha detto una volta una cosa che mi ha colpito mi ha detto noi abbiamo lavorato così bene tanto così chiudiamo da dove abbiamo iniziato abbiamo lavorato così bene in questi 20 anni sotto il profilo con l'approccio partecipativo che ormai i cittadini di Cinisello sono abituati che quando qualcosa non va più o meno vengono in municipio e noi li accompagniamo anche per tornare alla sollecitazione che faceva prima Giulia e quindi se volete abbiamo lavorato molto bene sia come amministratori ma anche come mediatori di processi partecipativi la cosa non so se lei c'era già all'inizio io dicevo quello che ho capito io è proprio questa cosa qua invece cioè che l'articolo 118 della nostra costituzione dice che il comune tra i vari livelli appunto del pubblico deve favorire la autonoma iniziativa di cittadini singoli e associati che perseguono appunto l'interesse generale quindi il tema è che paradossalmente in Italia ci sono delle città che hanno lavorato talmente bene dal punto di vista partecipativo che adesso fanno fatica a far capire che i cittadini anche autonomamente possono prendere l'iniziativa quindi è vero da un lato è vero che sono d'accordo che è anche una questione di capire che questo messaggio appunto arrivi e arrivino proposte all'URP che so che voi avete organizzato bene vengono a studiarvi anche da altre regioni per capire come il vostro URP si è innovato rispetto al tema dei beni comuni quindi come la signora potrebbe dopo domani andare all'URP e dire ma facciamo sto patto di collaborazione sugli orti poi metto io insieme quella massa critica che io dicevo prima quindi da un lato sicuramente questo dall'altro io a Palermo ho fatto una mappa dei palermitani attivi e mi ha dato tantissime sorprese un po' come dicevo prima dei funzionari del comune di Torino che sono rimasti molto sorpresi da tutta questa effervescenza di torinesi che vogliono fare patti e che sono adesso i patti che A, B e C come li hanno organizzati loro sono mettiamo una quarantina ma loro dicono almeno il triplo li abbiamo ricevuti ma questo per dire cosa che in realtà è vero che l'amministrazione può lanciare il messaggio e vedere chi arriva però secondo me ci potrebbe essere anche un po' un'amministrazione o un'università perché poi anche noi facciamo anche un po' la nostra parte che vada ad esplorare i territori perché in Italia quello che noi stiamo vedendo è che arriva la nostra piattaforma nazionale e di continue iniziative della società civile è questo quindi sicuramente voi come municipio parte politica e parte tecnica ne conoscete molte già però vi assicuro che appunto come centri servizi volontariato piuttosto che università a nostra volta ogni volta che abbiamo le risorse per andare a esplorare i territori rimaniamo stupiti quindi da un lato secondo me va benissimo l'amministrazione pubblica che un po' aspetta che il messaggio arrivi e che i cittadini portino delle proposte ma dall'altro anche noi università amministrazioni centri servizi per il volontariato dobbiamo sempre più allearci perché è un lavoro esplorativo secondo me quello da fare per rimanere sorpresi cioè nella mia esperienza poi le sorprese che diceva Luigi Bobbio sono un po' il bello anche di tutti i processi partecipativi e collaborativi sono tante io ci aggiungerei solo una cosa rispetto alla nostra realtà la nostra realtà è una realtà che è fortemente dove è fortemente presente il volontariato io credo che però è la natura del volontariato che abbiamo che è presente nel nostro territorio che forse insieme a noi può anche cambiare il suo modo di essere volontario in una logica anche diversa orientata probabilmente anche ad aspetti di dono diverso rispetto a quello che è ma anche di fare ecco diverso è un po' di associazionismo informale perché tanti gruppi di mamme che sono super attivi in Italia non sono formali non sono nessun interesse sono gruppi facebook piuttosto che anche per tornare al tema smart city a volte sono dei gruppi che si animano e poi dato interessante tanto si infuocano e raggiungono numeri anche un po' esorbitanti e quanto poi più velocemente si sgonfiano quindi anche è difficile per un amministratore come dire il patto di collaborazione dovrebbe proprio cercare di intercettarli magari sono gruppi che nascono su un'ondata di rabbia che il patto di collaborazione potrebbe appunto mettere nero su bianco chi fa cosa perché la rabbia diventi costruttiva in questo senso sì per esempio anche i gruppi virtuali che si infuocano sarebbero sicuramente una delle strategie anche possibili per le pubbliche amministrazioni cercare di intercettarli e sono molto d'accordo con Marta i centri servizi di volontariato nella mia esperienza sia in Toscana che in Sicilia sono molto attenti anche da voi a capire che il terzo settore si sta proprio rivoluzionando sotto questo profilo quindi sono molto attivi per esempio anche a invitare a fare iniziative in cui se anche non sei un'associazione iscritta fa lo stesso vieni vieni se hai il gruppo delle mamme ma il patto di collaborazione ti può molto interessare ecco ci stanno richiamando per stranamente per l'orario e quindi vuol dire che pochi ma buoni e quindi grazie grazie a tutti grazie mille grazie lascio presentare la professoressa Forno sì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti